Noi ci siamo allenati, sì. Domani Luz al momento ci ha bloccati, vediamo se cambia idea. Come stanno in questo momento la partita non si gioca. Esatto. C'era una proposta di cambiare il campo magari, di invertire i campi, nemmeno questa è percorribile. Luz ha proposto, ma sembra che la Cristina l'avranno risciutato. Non bene, ne erano trevisi positivi, non bene. Ogni volta che arriviamo qua aspettiamo che ci arrivi una bomba addosso. La Serie C è sempre più ostaggio del Covid. Le parole del presidente allenatore della Virtus Verona sono forti ed emblematiche ed escrivono bene il rischio serio delle ultime ore. Triestina-Virtus Verona, prevista per domani, già slittata la scorsa settimana, al momento non si gioca. Nello spogliatoio del Verona infatti salgono a 13 positivi. Ora bisognerà trovare soluzioni alternative ed è tutto nelle mani della Lega Pro. Si fa spazio sempre di più l'ipotesi della partita secca che potrebbe snellire la formula e permettere la chiusura di questa folle stagione. Intanto oggi prendono il via i play-out. Stessa sorte per il Fano e Limolese, rinviata nel girone C, scenderanno regolarmente in campo alle 17.30, solo Bisceglie e Paganese.